Elena Prestes e la rivelazione su Lorenzo Spolverato. Durante l'ultima puntata del Grande Fratello, la modella brasiliana Elena Prestes ha vissuto momenti intensi e inaspettati. La concorrente ha scoperto che Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta hanno trascorso una settimana insieme nella casa, un'informazione che non l'ha lasciata indifferente. Elena ha rivelato in confidenza a Maria Vittoria Minghetti e Amanda Lecciso un retroscena sorprendente riguardo Lorenzo, affermando che la produzione del programma darebbe dell'alcol al concorrente di nascosto, dichiarando. Anche io so tante cose. Ad esempio c'è Lorenzo che beve l'alcol di nascosto. Danno l'alcol solo a lui, il contraccolpo della confessione e la censura. Successivamente, Elena ha continuato a esprimere le sue opinioni riguardo a Lorenzo, sottolineando come egli goda di particolari privilegi all'interno del reality. Nonostante il suo desiderio di condivisione, la produzione è intervenuta rapidamente, interrompendo il suo intervento. Il gesto ha scatenato un acceso dibattito sui social, generando reazioni contrastanti tra il pubblico. Elena, percepita ferita dalla situazione, ha annunciato di non avere intenzione di tutelare più Lorenzo. Le accuse di strategia e incoerenza, in attesa di verificare la validità delle affermazioni fatte da Elena, è interessante notare il suo disappunto diretto nei confronti di Lorenzo, che ha manifestato in un recente confronto. La concorrente ha espresso la sua visione di un atteggiamento poco coerente, sia da parte di Lorenzo che di Shaila. Elena ha messo in discussione la sincerità dei sentimenti di Shaila, dichiarando. Anche da parte di lei, che mi ripeteva che Lorenzo non le piaceva. Mi ha rassicurata più volte, e adesso all'improvviso è innamorata di lui. Fonti interne indicano che Elena suggerisce l'esistenza di un piano strategico tra i due.